Secondo te qual è la formula del successo di Macari su una commedia e Giallo vanno un po' a braccetto e anche due personaggi, a fine Piccionello, in tre, lo vediamo anche nel manifesto, ma insomma anche questi scambi, voglio dire, da una parte la saggezza più popolare, ma forse più pragmatica, dall'altra la tua più intellettuale, ma forse un pochino più impulsiva, sono un equilibrio, una ricetta tanto storica quanto sempre di successo? Sì, sono d'accordo con te, è una coppia sia nei libri di Savatelli che in questa, diciamo, soluzione di serie tv, che conquistano perché effettivamente si completa una vicenda, sono un po' due facce della stessa medaglia, Il cinismo disincantato, ironico di Lamanna non può vivere se non con la granitica saggezza popolare di Piccionello. Sono due personaggi stupendi, insomma, con Domenico poi ci siamo divertiti a cercare di tratteggiare un'amicizia antica come quella che ci lega effettivamente nella vita, e questo ha dato modo di poter creare proprio lì sul set delle dinamiche, delle gag, delle situazioni che sono state, diciamo, fonte di grande ispirazione per noi e speriamo che possano divertire il pubblico. E poi c'è questa, se vogliamo, dinamica del ritorno in qualche modo, qualcosa di cui si è parlato molto nella pandemia, cioè di molto, no, il sud working, invece dello smart working, comunque molta gente, e tu ne sei anche un esempio anche biograficamente, voglio dire, dopo anni al nord, o fra virgolette, ha il piacere di tornare invece in sud, in questo caso una Sicilia che ha un rinnovato vigore, una voglia attraverso nuova generazione, di innovare ed essere pienamente contemporanea. Assolutamente, io ho fatto questa mia scelta autobiografica, come ricordavi tu, un po' prima della pandemia, però effettivamente era un po' nell'aria questa, da tanti anni in realtà, non solo per me, ma dico questo ritorno ad una dimensione più intima, più, tra virgolette, provinciale, più decentrata, ormai le metropole, le città che fanno questi grandi agglomerati di solitudini, esistenziali, diciamo che forse non soddisfano più, forse prima si veniva nelle città più che altro per trovare lavoro, ora lavoro nelle città probabilmente non c'è più, quindi effettivamente questo smart working decentrato, delocalizzato nella fantastica provincia italiana potrebbe essere una brillante soluzione per ridare l'infa vitale a dei territori che purtroppo hanno subito uno spopolamento importante negli ultimi anni, nella Sicilia ha subito uno spopolamento di milioni di persone, per cui parliamo di una terra che ancora sta cercando la sua strada nella contemporaneità e sicuramente questa serie affronta l'argomento di petto. Come hai trovato il personaggio di Saverio appunto in questa nuova stagione? Cosa ci hai trovato in comune rispetto ai primi film, ai primi romanzi? E cosa invece ti sta stupendo, comunque stai accompagnando anche come attore? Ma diciamo che quello che ho trovato, ho ritrovato del personaggio della prima stagione è questa meravigliosa condurre la vita al sud con questa lentezza, senza ansia di successo, questa riscoperta della scrittura come atto creativo e quindi ritroviamo sempre il Lamanna squattrinato, purtroppo è che cerca di arrabbattarsi vivacchiando nella villa al mare di suo padre e questo insomma è una cosa in comune che ha sempre un suo fascino. Ma diciamo come novità quest'anno sicuramente questo aspetto verrà un po' affiancato da una riscoperta anche di Lamanna del proprio passato di giornalista d'inchiesta, di giornalista di trincea, giornalista antimafia negli anni 90 e che riscopre insomma un'etica, una morale che in fondo lo hanno sempre accompagnato. Quindi quest'anno in più rispetto all'anno scorso c'è una consapevolezza maggiore del proprio ruolo di scrittore nella società, anche nelle proprie aspirazioni.